Ciao Davito Lecci, oggi solo pochi secondi per ricordarti che non ho assolutamente dimenticato di aggiornarti a proposito della cometa Panstars, ma semplicemente anch'io non sono ancora riuscito a vederla, diciamo che nonostante le belle giornate di questi giorni, almeno qui da me, tutte le serate, sia quelle del 10 che dell'11 che del 12 marzo, subito dopo il tramonto, cominciavano a comparire nel cielo puntualmente le nubi, la foschia densa a quanto basta per impedire l'osservazione della cometa. E quindi devo dire che da un punto di vista meteo è un problema che riguarda un po' tutta la nostra penisola, tutta l'Italia in questi giorni e quindi non ci rimane che sperare che nel miglioramento delle condizioni meteo teniamo comunque sempre d'occhio l'orizzonte ovest dopo il tramonto, chissà che prima o poi non riusciremo a scorgere la nostra cometa. Mentre aspettiamo di individuarla concludo in bellezza mostrandovi soltanto questa foto della cometa scattata da un cielo molto bello, molto pulito, limpido, proprio l'11 marzo scorso negli Stati Uniti d'America. Quindi non mi rimane che salutarvi e ci risentiamo presto con il prossimo aggiornamento.